Il nuovo governo tedesco si presenta come una novità sulla scena europea da molti punti di vista. Da un lato ha rilanciato e voluto sottolineare il fatto che sarà un governo fortemente europeista, dall'altro un cambiamento di linea in materia di politica estera con una posizione molto più dura e rigida nei confronti della Cina, della tutela dei diritti umani e così via garantita dalla presenza di una leader verde al Ministero degli Esteri, ma anche una maggiore disponibilità a un rafforzamento dell'integrazione europea sul piano economico fiscale, come detto perfino dall'Indre, leader liberale storicamente un falco, che però ha sottolineato le responsabilità della Germania per garantire la coesione dell'area euro e quindi anche strumenti volti alla crescita per garantire la sostenibilità dei debiti pubblici nazionali. Insomma una congiuntura favorevole che andrà sfruttata al meglio dagli altri. È chiaro che molto dipenderà anche dalle elezioni presidenziali e poi parlamentari in Francia e da quello che accadrà in Italia dopo l'elezione del Presidente della Repubblica. Ma abbiamo una possibilità, una finestra di opportunità per una convergenza tra i tre maggiori paesi su una linea fortemente europeista di riforma dell'Unione, che quindi alla fine della conferenza sul futuro dell'Europa possa accogliere l'occasione per una riforma complessiva dell'Unione per dotarla di poteri nuovi in materia di politica estera e di sicurezza, in materia economica fiscale e quindi trasformare l'Unione in senso federale. Un'opzione fondamentale nel ventunesimo secolo se vogliamo contare qualcosa sul piano globale.